buongiorno a tutti amici e ben trovati in questo nuovissimo video siamo molto molto emozionato perché oggi c'è una persona veramente speciale particolare un ragazzo un uomo che ha deciso di passare a vivere nel camper da full timer dopo tanti anni da camperista ha cambiato il suo mezzo prima aveva un mezzo molto vintage adesso ha veramente una suite su ruote e tanti anni che ci conosciamo perché fui già ospite sul suo canale in un'intervista che stava facendo una rubrica dove intervistava tutti i full timers quindi è stato una delle prime persone che ho conosciuto sono molto contento che sia come vedete qua alle mie spalle venuto a trovarci qua al bosco giardino sto parlando del grande mario del canale camperisti il nonno big house e oggi faremo due chiacchiere con lui e poi chissà magari ci farà dare un'occhiata anche alla sua suite quindi schiacciate subito il tasto like iscrivetevi se siete nuovi al canale rullo di tamburi andiamo da mario allora ragazzi che vi dicevo guardate qua tanta roba il mezzo di mario intanto facciamo vedere anche il suo bellissimo logo e se qualcuno ancora ovviamente non lo conoscesse cosa che mi sembra strana perché lui è veramente una star di youtube è un veterano potete andarlo a trovare anche sul suo canale fa sempre dei bellissimi video perché poi lui è un po un itinerante anche quindi troverete anche diversi posti molto belli da vedere io lo seguo sempre molto volentieri e questo è veramente una big house guardate qua ragazzi 7 metri più o meno di camper su un iveco che i suoi cavalli ce li ha mi diceva ieri che dei primi anni 2000 quindi anche ancora relativamente nuovo diciamo è bellissimo ecco al suo soletto tanta roba ciao grande mario buongiorno buongiorno noi siamo molto curiosi che dici ci fai dare un'occhiata grande intanto la prima cosa che non deve mancare come immagine sono questi due cagnoloni spettacolari i soci in tutti i sensi del nostro grandissimo mario che eccolo qua grazie mille da esserci da averci ospitato qua a bordo mario bellissimo il big house bellissimo bellissimo vi ci faccio dare un'occhiata molto veloce perché qua ce n'è da girare allora una bellissima manzarda tutti i vari mobiletti chiaramente come tutti i camper solo che ce n'è qualcuno in più colazioni spezie abbiamo la piesta induzione macchina del caffè frigorifero tutto elettrico perché andiamo a 220 qua non abbiamo sì 12 volt c'è ma per la ventola questa qua turbo vento e altre piccole cose non manca niente mario neanche lo spazio veramente ma hai fatto bene hai fatto bene perché ti ci vuole anche con queste due belve ti ci vuole veramente un po di spazio in più e poi insomma l'armadio la stufa col boiler truma trumatic quella che fa boiler e acqua calda c'è aria calda e poi ci sono i letti a castello dove sotto stanno i cagni sopra c'è il garage praticamente e poi c'è il bagno con la loro ciotola giustamente invece questo a livello di motore quanto è mario un 2.8 turbodiesel quindi i suoi cavalletti ce li ha si spinge in terza le salite queste qua le ho fatte tutte in terza praticamente allora va riesce a tirare su bene però ha i suoi vantaggi ecco il gemellato e alla doppia omologazione 55 quintali 35 quintali si può guidare con la c cambiando l'omologazione quindi è un po fuori peso però diciamo che li può reggere non è un fuori legge li regge perché è stato predisposto per fare la 55 quintali assolutamente non sei pericoloso e questa è la bellissima dinette sotto c'è una tannica da 100 litri qua sotto vero no di là ci sono le batterie a litri qua ci sono le batterie a litri qua c'è la tannica a sinistra qua invece c'è la tannica sì perché qua non si scherza ragazzi c'è una centrale questo è un inverter potentissimo mi diceva ieri 3500 9000 di picco ci colleghi veramente tutto si diciamo di si puoi far andare la piastra col forno puoi fare un po tutto abbiamo anche il forno qua il forno a microonde combinato che fa anche da grill praticamente puoi fare grill e combinati insomma insomma mi viene una cosa a guardare tutte queste queste cose che stai attorno dico full timer sì ma senza togliersi niente giustamente mi sono tolto l'asciugatrice e la lavatrice no vabbè scherzi a parte ho cercato di avere le stesse comodità che a casa per evitare di rimpiangere il fatto di vivere sul campo quindi così mi piace così sto bene così ho tutto quello che posso avere va bene così e io sono pienamente d'accordo con te insomma che dire ragazzi tutta un'altra storia rispetto al vecchio mulo senza nulla togliere logicamente la mia casetta io ci sto benissimo però questo di una classe superiore è una cosa un pochino diversa che giustamente anche lui è partito per per chi non lo sapesse con un camper più vintage che si chiamava appunto il nonno e finché è stato camperista che insomma lo usava in maniera un pochino più sporadica è andato in giro con quello poi un bel giorno se non mi ricordo male più o meno un anno fa ha preso questa decisione di saltare sul camper e non scendere più quindi diventare un full timer e a quel punto insomma per sue esigenze ha deciso di investire in un mezzo che facesse stare più a suo agio quindi ha preso questo bellissimo camper che è diventato poi la sua casa e sinceramente ci si sta molto bene molto accogliente come avete visto e quindi insomma ha fatto sicuramente la scelta giusta perché il mezzo un po più grande magari per le manovre queste cose sarà sicuramente un pochino meno agile anche se con tutti gli optional più moderni quindi avendo anche il servo sterzo logicamente tante cose si vanno a ovviare ecco se non per problemi di parcheggio magari deve trovare posti un pochino più grandi però è anche vero che quando uno poi lo sceglie come come casa è giustissimo che ci si senta perfettamente a suo agio quindi se ha bisogno di un po di spazio in più di qualche comodità in più di un impianto elettrico che fa veramente paura perché ha un bisogno di consumare un bel po di corrente quindi si è dipinto addosso questo mezzo e devo dire che mi è piaciuto molto e come se non bastasse ci è venuto ancora a trovare il nostro grande amico ormai il piccolo principe viene da solo qua al bosco giardino ormai sta già ci fa sempre avrà un molto piacere ci è venuto a trovare stasera quindi saremo insieme mario io e wild fabio e vi ricordo che anche lui ha un canale youtube e non scordatevelo quindi se volete andare a fare un salto sul suo canale iscrivervi a vedere qualche video dei suoi fabio il wild e poi mi raccomando che fra un po metterò un video ragazzi dove c'è simone dove c'è mario e vi racconterò un po le loro vite così così è molto wild ragazzi ciao ragazzi ciao